bella raga qua è savix che vi parla bentornati in questo nuovo video e benvenuti se siete nuovi nel canale ragazzi oggi after patch per car to service ragazzi in solo 100% solo quindi requisito autofficina raga il veicolo da cui prendere le modifiche all'interno e poi ci servirà un veicolo del civile già sul ponte ci servirà anche un'attività raga da mettere tra i preferiti e vi lascio il link in descrizione purtroppo ho link solo di xbox se qualcuno di play raga ha questo link mi può contattare e lo metto in descrizione quindi prendere il veicolo da cui vogliamo prendere le modifiche raga e a questo punto semplicemente schiacciare freccia destra fare una qualsiasi modifica quella che costa meno è indifferente raga non toccate la targa se non andate a sbaggarla ovviamente una volta che avete fatto la modifica tornate a posto quando siete a posto semplicemente dovremo recarci dal veicolo che vogliamo moddare del civile raga quindi cosa dobbiamo fare dopo che avete aggiunto l'attività ai preferiti tramite social club link in descrizione qua sotto raga dobbiamo andarla a cercare dove la trovate start online preferite raga e andiamo su gare stand si chiamerà gara merge by mccook qualcosa del genere e cosa dobbiamo fare guardate bene cosa faccio semplice raga andiamo sull'attività cosa facciamo la avviamo quindi la selezioniamo vuoi davvero avviare questa attività si e apriamo subito il nostro menu xbox e partecipiamo su anawak raga in modo che ci da il caricamento in basso a destra accettiamo il primo rifiutiamo il secondo a questo punto spawneremo all'interno dell'officina ci giriamo e sbada bam avremo l'attività visibile cosa dobbiamo fare adesso raga ci mettiamo qua dall'angolino della macchina funziona con tutti i tipi di macchine e clicchiamo una volta freccia destra non modda ci riproviamo ci spostiamo leggermente più vicino al cerchio clicchiamo freccia destra e sbada bam raga avremmo moddato il nostro veicolo cosa dobbiamo fare per salvarlo semplicissimo ci avviciniamo alla macchina raga freccia destra e la compriamo un po dove ci pare quindi ragazzi vi invito a seguire la nuova serie raga e molto presto ci sarà un secondo canale attivo di xavix quindi vi invito a seguire la serie così poi raga il xavix pubblicherà renderà attivo anche secondo canale dove in quel canale si farà solo roba che non c'entra un cazzo con il gaming raga quindi lasciate un like se vi è piaciuto il video lasciate un commento supportate xavix supportiamo questo canale e presto anche il secondo e alla prossima spada bam iscriviti al canale iscriviti al canale